Siete pronti per vedere questa seconda battaglia di questo decimo capitolo della modalità storia di injustice? Allora guardatelo a tutti i costi. Dopo aver sconfitto Lanterna Gialla, ora Flash deve uscire da qui e disobbedire la dittatura. Flash riesce a sconfiggere e a eliminare questo zombie Solomon Grandi e vediamo se Grandi non darà più fastidio a nessuno. Mi ha fatto la transizione di livello. Non ci voleva. Wow, Flash può rallentare il tempo, è vero, non lo sapevo. Guardate come è spettacolare sta super mossa di Flash. Flash comincia a correre in tutto il mondo e poi arriva a dargli un bel pugnone al suo avversario per stenderlo a terra. Flash ha vinto ancora. Io vi saluto, speriamo vi è piaciuta questa battaglia. A me non mi sono mai piaciuti gli zombie. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate, altri video vi aspettano. Ora che Flash ha sconfitto Lanterna Gialla e solo Mongrandi può lasciare la dittatura.